Ciao, mi sono Adel e oggi faremo un video sulla Chainomeles giapponica e voi sapete tutti dove l'abbiamo presa, vero? Se non lo sapete ve lo ricordo io da Adel e Leonardo, il nostro canale è dove facciamo tante cose, tante tante, eppure pasteggiate, ma non le facciamo da un po'. Se volete andare a seguire, ci sono tante piante, pochi animali, ma perché? Cosa vuol trovare? Ci bastano questi, andate ad iscrivervi a quello e a questo canale, mettete like a questo video e a tutti gli altri. Iniziamo. La Chainomeles giapponica, chiamata mela cotogna giapponese o mela cotogna di maule, è una specie di mela cotogna di fiore originaria del Giappone. Ecco, regno piante, clade tracheofite, clade angiosperme, clade eudicot, clade rosidi, ordine rosales, famiglia rosacee, genere Chainomeles, specie cotogna giapponese. L'elenco di cosa? Non lo l'elenco, ma ve lo lascio a voi. Letto, bravo. È un arbusto deciduo spinoso comunemente coltivato. È più corto di un'altra specie comune coltivata, il cotogna speciosa, crescendo fino a circa un metro di altezza bassino. È meglio conosciuto per i suoi fiori primaverili colorati, che sono rossi, bianchi, rosa o multicolore. Descrizione. È un arbusto voluminoso con spine a rami ampiamente spanzi, che raggiunge altezze di crescita da 0,6 a 2 metri. Le foglie sono da lanceolate a obovate, grossolanamente dentate e glabre, anche da giovani. Sono lunghi da 4 a 5 pollici e larghi da 2 a 3 pollici, incluso il picciolo. Le stipole, insolitamente grandi, sono lunghe un centimetro e larghe, 1,5 centimetri a 2 centimetri, a forma di rene e seghettate. Sul bordo si trovano solo su lunghi germolini. Fiorisce in inverno prima del germoglio, del germogliamento delle foglie. Ok, rifiorisce in estate, ma con minore abbondanza. Ah, ok, ci può stare, allora l'abbiamo presa in primavera, quella là. Di solito ci sono due o tre fiori disposti insieme, sono di colore arancione e rosso mattone. Quando sono aperti i fiori sono larghi da 3 a 4 centimetri, normale. Il frutto si chiama kusaboke, tra parentesi kusaboke, come si scrive in giapponese, non sono su come i giapponesi sappiano scrivere queste cose impossibili in giapponese. Produce frutti a forma di mela di 4 a 7 centimetri di diametro di colore giallo dorato contenenti semi rosso marroni. Usi Il frutto è commestibile, ma duro e astringente, a meno che non sia bettato o cotto con i frutti. No, i frutti non sono commestibili crudi, ma come tutti i frutti della famiglia delle rose, la polpa non è tossica. I chicchi contengono piccole quantità di veleno. Il frutto viene occasionalmente utilizzato nella preparazione di marmellate, gelatine e torte, come sostituto della cugina, la vera mela cotogna, cidogna o blonga. Punto, cidogna o blonga, cidogna o blonga. Ah no, la cotogna giapponica è anche comunemente coltivata nei bonsai, accettata tutti i tipi di terreno, ma cresce molto lentamente nei terreni, calcare galleria immagini. Questi sono i fiori, questi sono i frutti, sembrano delle miele, e queste le foglie, questi fiori, questi fiori, e si ricomincia il giro. Se vi è piaciuto questo video, anche se molto corto, mettete tantissimi like, iscrivetevi al canale, ciao! Grazie a tutti!